Produttore, Bridgerton, due tensioni a me, tu ogni fattore di più. Ok, vai. Sei tu che hai voluto questo gnone? Sei tu che hai detto che ti sarebbe bastato avermi accanto? Perché ancora non ti conoscevo, però avevo persino un po' di compassione. Non volevo la tua pietà. E io non volevo essere caduta. Daphne, io... Tu cosa? Tu cosa?